Una legge per diagnosticare precocemente nei bambini il rischio di ammalarsi di circa 260 malattie rare e la possibilità di una cura efficace in caso di riconoscimento in tempi brevi della malattia. Il giorno dopo l'approvazione della legge sulla cosiddetta carta di identità genetica sono tante le famiglie pugliesi a gioire per le prospettive di una norma rivoluzionaria privata proprio in questa regione. A volerla fortemente è stato il consigliere regionale presidente della commissione bilancio Fabiano Amati che si era ispirato alla storia della piccola Melissa una bimba malata di sma che a causa della diagnosi arrivata dopo il sesto mese di vita aveva avuto grandi problemi ad accedere alle cure qui in Italia con una lunga discussione che era stata al centro delle cronache. Io inciampai nelle lacrime dei genitori di Melissa una bimba malata di sma che per tardività nella diagnosi purtroppo non poteva prendere una terapia poteva avere una terapia innovativa e di lì scoprì un grande mondo. Questo mi sensibilizzò molto e quindi cominciamo con lo screening obbligatorio per la sma lo screening super esteso e poi a un certo punto la genetica medica è un pozzo senza fine di suggerimenti e poi a un certo punto l'abbiamo portata a tale evoluzione che ieri in consiglio regionale sempre sulla base di quella ispirazione infatti penso che Melissa e tutti i bimbi malati siano i miei ispiratori con la collaborazione di Mattia Gentile che è un studentista della sanità pubblica. Grandissima è stata la felicità anche da parte della famiglia di Melissa nel suo caso i tempi della diagnosi hanno richiesto cure all'estero con una raccolta fondi lanciata attraverso il web e raccontata sulla pagina facebook un futuro per Melissa che ha portato la piccola da Monopoli a curarsi a Dubai. La nuova legge però offrirà una possibilità diversa per tanti bimbi e tanti genitori pugliesi. Che cosa ha provato ieri? Un'immensa felicità e un'immensa gioia nel poter nell'aver appreso questa notizia meravigliosa. Melissa non rientrava nella terapia genica in quanto i criteri della terapia genica erano solo fino ai sei mesi di età e quindi averlo scoperto a sei mesi e tre settimane per sole tre settimane lei non è potuta rientrare in quella che è la terapia genica per la sua di malattia e quindi siamo stati costretti a volare all'estero e tramite un group funding abbiamo provveduto nel somministrarlo all'estero perché parlavamo di importi veramente alti di una terapia ad un costo di quasi due milioni di euro che la Puglia sia un punto di partenza e un punto di svolta. Perfetto è un attimo che stop la registrazione.